Eccoci con Recchioni, siete riusciti a portare a casa uno scontro importante anche in alta classifica perché voi siete ancora a due punti dal Maccabie aspettando il risultato ufficiale della sfida contro il Real Miami loro erano terzi, voi secondi un big match che soltanto l'Alba Roma poteva vincere Sì, è stata una partita molto complicata, molto combattuta, di fatti gli animi accesi del finale della gara lo dimostrano Siamo stati molto bravi, molto bravi anche loro perché hanno tenuto aperta una partita veramente importante per noi e adesso mancano 160 minuti al termine della stagione e proviamo a fare risultato pieno in entrambe le sfide con un orecchio diciamo alle partite del Maccabie e vediamo cosa succede Comunque vada una stagione pressoché perfetta, due sole sconfitte, manca ovviamente la ciliegina sulla torta però a prescindere una strepitosa Alba Roma per quasi tutta la stagione Sì, due sconfitte, purtroppo l'altro mezzo passo falso è stato il pareggio con l'adattivo smistamento chiaramente quei due punti in questo momento pesano tantissimo perché siamo avanti ma con una partita in più ripeto, abbiamo fatto un percorso quasi netto, ci penalizzano quelle due sconfitte e il pareggio aggiuntivo di cui parlavo però siamo molto felici per la stagione e cercheremo di esserlo e speriamo di esserlo ancora di più al termine della stagione Grazie mille, alla prossima Grazie, ciao